In ottica sempre di investimento e di formazione nel portafoglio, qual è secondo te una percentuale tipo comunque media che ogni investitore comunque dovrebbe detenere in oro, in questo caso in oro fisico? Certo, noi diciamo che la percentuale adeguata dipende tanto da chi è il nostro interlocutore in quel momento e da che tipologie di risparmio si può permettere di gestire, cosa vuol dire? Siccome abbiamo sempre detto e sostenuto che l'oro da investimento non è alternativo né al mondo della finanza e più in generale al mondo degli investimenti, ma è complementare, il ruolo che si vuole ritagliare con l'oro da investimento è la riserva di liquidità, quindi mi viene da dire, ci possono essere persone che hanno i risparmi di una vita contenuti in un chilo d'oro o poco più, con magari anche una pensione di 1000 euro piuttosto che poco più e quindi avere una fonte di ricchezza a cui attingere che oggi può essere anche fatta di una vita di 30.000 euro è sicuramente una bella garanzia per lui. Altre persone che probabilmente hanno bisogno di liquidità maggiori per poter affrontare la loro esistenza e quindi devono ovviamente fare fronte con degli accantonamenti maggiori. Qualcuno dice in generale delle percentuali, chi parla del 5, chi parla del 10, chi parla del 15, ovviamente questo come dicevo prima diventa molto soggettivo, l'importante è avere queste sicurezze, quindi avere questo oro fisico da parte perché solo l'oro fisico ti appartiene veramente e risponde in modo preciso a una dinamica di bene rifugio.